Un nuovo episodio di violenza. Ieri sera un autista in servizio è stato aggredito e picchiato da un passeggero dell'autobus che stava guidando. Il fatto è successo ad Arezzo all'incrocio tra via Vittorio Verito e via 4 novembre. Il bus aveva percorso il tragitto estraurbano che collega Fogliano a Arezzo. L'uomo di circa 40 anni è rimasto ferito al volto ed è stato trasferito dalla Croce Bianca in ospedale. Già durante il percorso, come dicono alcuni testimoni, l'aggressore era apparso inquieto. L'autista è comunque riuscito a parcheggiare e a fermare il mezzo. L'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo lo ha portato al Sandonato dove è stato sottoposto per le cure del caso. Sul posto le volanti della questura di Arezzo, sconcerto non solo tra i presenti ma anche tra i lavoratori del settore. La scorsa settimana c'era stato uno sciopero nazionale per episodi di violenza contro lavoratori del settore. L'episodio di Arezzo ha dato l'occasione ai sindacati di reclamare maggiore sicurezza in un contesto di grande difficoltà. Questa mattina in un'assemblea regionale che si è svolta a Firenze, il segretario provinciale della CGL Trasporti Mori ha condannato l'episodio chiedendo l'intervento del prefetto richiesta che unitamente farà insieme a Cisle Will. Sono troppe le linee pericolose ed episodi di questo tipo non possono essere più tollerati. Per la cronaca l'autista aggredito ha riportato alla frattura del setto nasale.